Non vado a cantare ancora, ho già cantato in campagna elettorale, basta. Quindi a decine che qualcuno le dice che sto stonata. Occhio, 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 occhio. Non è stonata. Ho il confronto con la sua collega di partito a Pendino, le fa paura. Salve, lei mi mancava. Dicevo, ma dove sarà? Le fa paura? Rispetto all'Appendino sta spendendo qualcosa di più, qualcuno dice. Il capo ufficiale è il no all'Olimpia di sindaca. C'è una posizione. Fase il giro di là. Là, stop, stop, stop. La cellulite, occhio. Io mi chiamo a musica comunque. No, dai, lo so. La cellulite, io so. Beata lei, no? Bene. Aspetta, eh. Sperare di lavorare presto con la cellulite. Abbiamo qualche attività. Spero che l'ha una notizia, almeno. A posto. l'Olimpia di no. No, ve lo comunico io, così non fate lo scopo alla boschi. Ve lo dico io. Ecco, c'è. C'è femmina. Però comunque c'è chiesto. Non è poi la fine. No, infatti. Però, cioè, lo dico. Sino, intanto ormai vado sui giornali, si sbatto il tappeto, si è inestiracchio. Ma sono loro che non lasciano perdere in me, guarda. Ma che roba. Salve. Come va? Come è? Bene. La rifacciamo qua. Vicino alle scade. Roberto. Roberto. La rocca miseria canta dorme quello.